Ben trovati da TG della mobilità, oggi e domani lunedì di Pasquetta, normale orario festivo sulla rete del trasporto pubblico e da martedì terminate le feste, inizierà una settimana di cantieri con riflessi sulla viabilità. Sulla Cassia Bispe, lavori sulle rampe all'altezza del raccordo anulare, sono previste riduzioni di carreggiata in via Monterosi nel quindicesimo municipio, da martedì sensunico alternato tra via Flaminia e via Valdagno per quattro giorni di cantiere, per due notti dalle 20.30 sarà chiusa via della stazione Tiburtina per lavori in via della Lega Lombarda, saranno deviate sei linee di bus, infine dal 12 al 28 aprile, sempre per un cantiere, circolazione a sensunico su via Salaria, da via Tirso a Viale Regina Margherita e tutto dal TG della mobilità. Grazie a tutti!